Ciao manciulle, non è il trucco di carnevale, questa sono io, questa è la mia vera natura selvaggia. Forse è la prima volta che qualcuno di voi mi vede che i miei capelli naturali, comunque questi sono i miei capelli e ogni volta cerco di domarli con il phon, spazzola, piastra, non io perché non sono assolutamente capace. Essendo riccia non ho mai usato il phon quindi non so tenere in mano né il phon né la spazzola. Comunque lasciavo queste cose a un altro video. Allora il concorso, ieri sera appunto ho chiuso il concorso, mi spiace ma nessuno di voi ha indovinato. O meglio, in tantissimissimissimissime avete azzeccato i due colori, almeno i tre colori, però non li avete abbinati nella maniera corretta. Cioè tantissime di voi hanno indovinato i due colori più il colore del metallo, però mancava sempre un colore. Mi spiace veramente tanto, però dall'altra parte mi fa un piacere enorme sapere che tantissime fanciulle, tantissime di voi hanno azzeccato i colori che mi piacciono. Cioè in pochissimi commenti ho trovato colori che non fanno parte della mia persona, quindi in tantissime avete detto il verde pavone, avete detto il blu, il lilla, il turchese, tutti questi colori qua che sapete che io amo. Allora, aiutino, vi ho detto che la camera è luminosissima, anzi in questo momento io sto facendo il video proprio dalla camera. Ho cambiato postazione perché magari facendolo proprio da questa camera ho detto mi passo così l'influsso del colore. Allora vi ho detto che è luminosissima, quindi non sarà di certo nero, marrone, arancione, come ho visto in alcuni commenti. Non sono di certo dei colori così scuri. Il colore predominante è un colore luminosissimo. L'altro è un bel colore chiaro, diciamo sì, comunque luminoso. E l'ultimo, quello diciamo che è un colore un po' più particolare. Per aiutarvi ancora di più, scusate mi muovo ma sono una poltrona rotante. Ecco, mi sento un po' così comunque. Allora, vi stavo dicendo, per aiutarvi ancora di più posso dirvi che il colore A finisce per A, il colore B finisce per O, il colore C finisce per O. Il metallo, almeno quello, ve lo lascio così alla fortuna. Allora, oggi è giovedì. Oggi è giovedì. Facciamo che chiudo il concorso sabato a mezzanotte. Spero di riuscire. Quindi sabato a mezzanotte, appena tornerò a casa, chiuderò il concorso. Questa volta potete lasciare solo un commento, perché avendovi aiutato così tanto, vi ricordo che i tre colori sono diversi. In tante di voi hanno scritto due colori e io sono stata un po' dietro a tutte, però in così tante avete scritto tre colori, cioè due colori. Pensavate magari che un colore fosse uguale all'altro? No. Un colore è diverso dal secondo colore, che è diverso dal terzo colore, che è diverso anche dal metallo. Quindi, i tre colori non sono di certo colore metallo. Ecco. Il primo colore finisce con A. Sto guardando. Il secondo colore finisce con O. Il terzo colore finisce con O. E il metallo sta a voi. Allora, Massimo un commento a testa. Verranno accettati solo i commenti sotto a questo video. E chiudo il video sabato a mezzanotte. Spero di riuscirci. Comunque, se non dovesse riuscire, conterò solo i commenti arrivati entro la mezzanotte di sabato. E di questo sabato ce l'avete solamente due o tre giorni. Venerdì, oggi, giovedì, venerdì e sabato. Solamente questi due giorni e mezzo, diciamo. I regali lo sapete, sono nell'altro video. L'ho tolto, però appunto per evitare che qualcuno scrivesse ancora i commenti. Adesso, sotto a quel video, scriverò concorso chiuso, sotto a un commento. Quindi non accetterò, non riterrò validi i commenti scritti dopo al mio commento che ho scritto. I commenti validi saranno solo quelli sotto a questo video. Massimo un commento a testa. E fra tutti coloro che avranno indovinato, farò l'estrazione su random.org. E poi, finalmente, vi dirò la vincitrice. Ok, era un po' difficile, però mi sono resa conto che i colori li avete indovinati tutti. Quindi mi conoscete meglio di quanto pensassi. E veramente sono felicissima perché in ogni commento che trovavo i colori che mi piacevano, dicevo, ecco, vedi? Allora mi ascoltano quando parlo. Cioè, allora, veramente, quando io dico qualcosa, mi immagazzinano. Lo fanno loro. Quindi mi ha fatto un piacere enorme sapere che comunque avete cercato tutti quei colori che mi piacciono tanto. Grazie. Va bene, allora, avete capito? Tre colori. Il primo finisce con A, il secondo finisce con O, il terzo finisce con O. e il metallo da indovinare. Valide solo sotto a questo video. Massimo un commento a testa. Sabato a mezzanotte. Chiudo il concorso. Se non ce la faccio sabato dentro a mezzanotte. Comunque non accetterò i commenti. Non renderò valide i commenti dopo la mezzanotte. I regali li potete guardare sull'altro video. E fra tutti colori che avranno indovinato, farò l'estrazione su random.org. Ciao, panciulle! E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti